E' ben arrivato un treno da Roma, era tra i nuovi quarti e borghesi, sono eruditi ai nostri paesi, alla resta che noi contravandieri, il primo viaggio che noi abbiamo fatto, è stato bello del basso del Manoia, e le guardie di Lano, Savoia, e la ricolla che noi abbiamo lasciato, è la ricolla che noi abbiamo lasciato, è il valore di 500 lire, ai finanziari, la manderemo a dire, e le guardie di Lano, Savoia, e le guardie di Lano, Savoia, e le guardie di Lano, Savoia, e la ricolla che noi abbiamo salvato, stavamo in quattro seduti in osteria, carabinieri bussavano la porta, o per amore, o per amore, o per forza, a creare la porta, noi dobbiamo passare, a creare la porta, noi dobbiamo passare.